Musica Amici e amici di Rossini TV, benvenuti e bentrovati. Inizia oggi un percorso fatto a tappe, tappe di avvicinamento, come tutti gli anni ormai abbiamo abituato a seguire, tappe di avvicinamento al Festival dei Gruppi Arte Dramatica, al Festival dei GAD. Pertanto abbiamo in studio con noi Cristian Della Chiara, eccoci qua. Ciao Paolo, buongiorno, ciao a tutti i telespettatori, ben ritrovati. Ben trovato a te, ti abbiamo intercettato al termine di un percorso e all'inizio di un altro, perché come mi piace sempre dire, questa sorta di fase di avvicinamento è un po' una cerniera. Siamo alla conclusione di tutto un lavoro preparatorio che diremo e riprenderemo, importante, complicato, articolato, che dura un anno, perché io mi ricordo benissimo che dal momento in cui si riavvolgono i roll-up dopo la premiazione già si comincia a pensare all'edizione successiva. Però è il momento in cui sta per iniziare la parte, quella pubblica, la parte del pubblico, quella in cui il pubblico affolerà la platea e i palchi del Teatro Rossini. Insomma è un momento delicato. Un momento entusiasmante direi, dici bene, perché noi di solito alla cerimonia di conclusione di un festival già annunciamo i bandi per l'edizione successiva, che escono poi poche settimane dopo e quindi in realtà l'attività non si interrompe mai, anche perché poi tutto l'autunno è anche dedicato all'attività nelle scuole, con il teatro a scuola, che è uno degli assi portanti della nostra associazione, cioè quando portiamo attori nelle scuole a fare teatro direttamente in aula. E tutto questo lavoro di preparazione poi raccoglie i frutti durante il festival, come ci aspettiamo, ci auguriamo che accada anche quest'anno. Poi i ragazzi, punto su questo perché i ragazzi, il mondo della scuola è sempre il nostro pubblico di riferimento, il più numeroso, è anche quello a cui siamo più affezionati, senza nulla togliere anche ovviamente ai nostri più affezionati spettatori di lunga data. Però quello è il nostro pubblico di riferimento che curiamo tutto l'anno. Quindi l'anno è trascorso nel portare il teatro a scuola, ma anche poi nel preparare l'edizione, perché anche quest'anno circa 100 spettacoli si sono candidati a essere selezionati per il concorso e quindi il periodo dell'autunno, più che altro della primavera e dell'estate, è anche quello della visione privata degli spettacoli, assieme a Giuseppe Esposto, che da qualche anno mi affianca nella selezione di questi spettacoli per arrivare poi alla scelta degli otto in concorso, anche di qualche altra sorpresa fuori concorso che completa un cartellone degno di un anno capitale. Ci piace ricordare che noi abbiamo questa tecnica ormai, all'inizio era quasi un po' spontanea, adesso sta diventando una tecnica, quella di entrare a gamba tesa. Noi cominciamo già a parlare di quello di cui vogliamo parlare. Lo facciamo dando quasi per scontato, ma lo sappiamo che non è così, che a casa siano tutti lì pronti e sappiano già di cosa stiamo parlando. Poi, dopo che abbiamo incuriosito e dopo che qualcuno magari è lì che dice ma sti due, di cosa stiamo parlando, allora noi facciamo il passo indietro e vi spieghiamo. Vi spieghiamo che stiamo parlando della 77esima edizione del Festival Nazionale dei GAD, dei gruppi Arte Drammatica, che è un po' l'evento qualificante, ma soprattutto l'evento più impegnativo, è comportato avanti dall'Associazione Amici della Proga, che non fa solo questo, perché ha anche altre accezioni di cui Cristian ha poco fa parlato, c'è anche Vaghe Stelle dell'Orsa legato alla poesia, insomma ci sono tante iniziative che fanno riferimento all'Associazione Amici della Proga e naturalmente il Festival dei GAD è una di queste e forse la più evidente, appariscente, al punto che, un'altra cosa che mi piace dire, ma ogni tanto queste ripetizioni mi vengono spontanee e mi diverto a farle, il Festival dei GAD forse insieme alla mostra del cinema è una delle poche cose che sono più anziane di me, nel senso che è alla settantasettesima edizione, per cui insomma un'edizione speciale, sapete che ci piacciono, piacciono un po' a tutti i numeri, le cifre tonde, di solito è centesimo, settantacinquesimo, cinquantesimo, ma anche settantasette è un bel numero, soprattutto perché quest'anno coincide con la Capitale Italiana della Cultura. Cristian, l'anno scorso ce l'avamo lasciati proprio nell'ultima puntata di questo ciclo di trasmissioni, che facciamo già da qualche anno, dicendo cosa vi escogiterete, cosa vi inventerete per l'edizione della Capitale, che cosa vi siete inventati? Allora, innanzitutto un festival che si svolgerà tutto al Teatro Rossini, il teatro principale della città, dal 14 al 27 ottobre e ci saranno eventi tutti, tutti, tutti i giorni, in qualche giorno ci saranno anche due eventi nella stessa giornata, quindi un grande sforzo anche organizzativo, ricordiamo che l'associazione Amici della Prosa vive del apporto di volontari che aiutano nella costruzione con grande entusiasmo la costruzione di questo evento che poi viene impegnato in scena di nuovo dei volontari, perché il teatro non professionistico è fatto da persone che fanno altre professioni e che poi si dedicano al teatro in maniera al di fuori appunto della propria attività professionale. Nell'anno di Capitale della Cultura abbiamo voluto innanzitutto, direi, fare un omaggio alla città che è Capitale della Cultura, riservando uno spazio importante all'interno del cartellone alla scena teatrale pesarese. Ci sono tre compagnie, fra le più rappresentative, non fosse altro per anzianità di servizio, diciamo così, del nostro territorio, che saranno ospitate fuori concorso, proprio per dar merito a una città che anche in generale nella cultura, ma anche nel teatro, si trova a fare delle proposte di grandissima qualità. Quindi, ospitando a Pesaro tante persone che sono appassionate di teatro e che verranno a portare a Pesaro i loro spettacoli, ci pareva giusto e bello dare anche a loro modo di poter assistere a quello al meglio che viene prodotto nel nostro territorio. Quindi questa vetrina Capitale è una sezione all'interno del festival riservata alle compagnie pesaresi, in questo caso saranno coinvolte la Compagnia della Piccola Ribalta, il Teatro Accademia e il Teatro delle Ombre, con tre proposte in tre giornate, ripeto, fuori concorso, ma che al Teatro Rossini daranno modo di dare grande lustro alle proposte pesaresi. Un altro evento che segna una cifra significativa di questo festival è un'attenzione a delle tematiche, diciamo così, altre. Nell'ambito della sezione GAD Festival Ragazzi, che quest'anno giunge alla tredicesima edizione e che a sua volta è un contenuto all'interno di un contenitore più grande ed è una sezione trasversale all'interno del festival, con un'ulteriore attenzione, diciamo così, al pubblico dei più giovani, ci sono tre appuntamenti molto diversi l'uno dall'altro. Ritorna il Musical, che per tanti anni è stato protagonista del nostro cartellone, con una compagnia solidissima, più volte ospite a Pedro, la compagnia dell'Anello di Forlì, che porterà un musical tutto dedicato a Shakespeare, Not To Be, quindi uno Shakespeare in maniera diversa, quindi per accontentare sia i professori, che porteranno i ragazzi a scuola con un richiamo magari a quello che a scuola studiano, ma anche i ragazzi con un'offerta, diciamo, stilistica, estremamente vicina ai loro gusti. Sarà l'occasione per imparare qualcosa di Shakespeare, divertendosi, ascoltando delle musiche ben eseguite e cantate in maniera straordinaria. Altri due appuntamenti che invece portano anche altri valori. L'inaugurazione del festival il 14 ottobre sarà tutta dedicata ai giovani, alle problematiche. Non parliamo in questo caso di uno spettacolo in senso stretto. ospiteremo il professor Giorgio Nardone, che è una celebrità a livello nazionale nel campo della psicanalisi, segue un percorso autonomo in questo segmento e tutta una giornata dedicata alle problematiche giovanili, cercando di offrire una possibilità di riflessione che sia di aiuto tanto ai ragazzi quanto a chi con i ragazzi ha a che fare, quindi ai professori. Tre appuntamenti nella stessa giornata, la mattina più specificatamente è rivolta ai ragazzi delle scuole, nel pomeriggio più specificatamente è rivolto ai formatori, quindi nella Sala della Repubblica il pomeriggio sarà dedicato soprattutto ai docenti, ai formatori, e la sera aperto a tutta la città, quindi diciamo anche alle famiglie, ai genitori che cercheranno di trovare dei momenti di riflessione su quello che può essere una corretta relazione con individui in una fase molto delicata della loro vita, che è il periodo dell'adolescenza, che è quello che intercettiamo in maniera numericamente più consistente. Sono tre appuntamenti gratuiti fino a esaurimento dei posti, il teatro è grande ma non infinito, quindi soprattutto l'appuntamento del pomeriggio in Sala della Repubblica ha la possibilità di ospitare un numero più contenuto di persone, però tre appuntamenti che vogliono veramente essere a servizio della comunità. E' un altro momento di grandissimo valore, cui teniamo veramente tanto, ci sarà il sabato conclusivo, nel senso che poi la domenica del 27 sarà dedicata alla premiazione, l'ultimo giorno di spettacolo, il sabato, doppio appuntamento, la sera l'ultimo spettacolo in concorso, su cui parleremo in un altro momento, la mattina invece saremo parte della festa che celebra il sessantesimo anniversario della Lega del Filodoro che porterà qua a Pesaro uno spettacolo di un'intensità veramente straordinaria. Ho avuto la fortuna di poter vedere questo lavoro e per fortuna, devo dire, abbiamo trovato con la Lega del Filodoro la possibilità di ospitare a Pesaro questa straordinaria esperienza, direi, e qualche cosa di più di uno spettacolo. Sarà la mattina alle 11, è ancora dedicato prevalentemente al pubblico dei giovani, ma il teatro è aperto a tutti. Ancora una volta uno spettacolo gratuito fino ad esaurimento posti, sappiamo che la collocazione della mattina può non essere comoda per chi è pubblico, diciamo così, non adulto, però è sabato appunto, quindi contiamo davvero di avere il maggior numero di persone che possa partecipare a questa doverosa celebrazione di un ente che fa un lavoro straordinario in un ambito così delicato, diciamo così, e che poi possa far parte di questa festa vedendo anche uno spettacolo dalle fortissime emozioni. Ti ho soddisfatto con le novità capitali? Promessa, super, super, super mantenuta, una roba straordinaria, anche perché appunto abbiamo parlato, Cristian ha parlato 10 minuti quasi, senza parlare del festival, perché è della gara, del concorso, nel senso tutto questo è tutto quello che sta intorno. Come abbiamo pensato di strutturare le nostre tre tappe di avvicinamento? Proprio in questo modo, cioè l'idea è cominciare a raccontarvi, a spiegarvi, tra l'altro andiamo a occupare uno spazio lasciato libero nella programmazione di Rossini TV dalla conclusione del programma Estate Capitale, per cui il venerdì sera è un giorno al quale vi abbiamo già abituato a seguire iniziative della nostra città, per cui per tre venerdì, ovviamente con tutte le repliche, noi faremo questo avvicinamento al festival, oggi è stato il modo migliore per farvi capire le novità e tutto quello che c'è all'interno di questa edizione capitale, questa edizione, questa settantasettesima edizione. Dentro tutto questo naturalmente poi c'è la gara, il concorso, perché non lo dimentichiamo, e ci sono tutte le altre cose di cui parleremo nei prossimi giorni. Parlavi delle compagnie di Pesaro, parlavi di quelle appunto le anzianità di servizio, eccetera, e io facevo una riflessione, la mia riflessione era questa, la cosa bella del teatro, ma in generale delle arti performative, penso soprattutto a teatro e musica, è che possono mettere insieme sullo stesso palco e comunque sullo stesso nome e sulla stessa tradizione pezzi di storia insieme a pezzi di futuro. Cioè questa è la cosa bellissima. Noi stiamo parlando di un festival che ha la settantasettesima edizione, dove in cartellone ci sono anche dei lavori scritti qualche secolo fa, però lo facciamo in assoluta consapevolezza di essere esattamente nel presente, di essere anche un po' nel futuro, perché stiamo parlando di qualcosa che succederà fra appunto una decina di giorni, e questa è la cosa straordinaria, cioè riuscire a contenere in uno stesso spazio fisico e concettuale tutta la storia del comportamento umano, della vita. Questa è una delle cose che mi entusiasma. Forse poche altre cose riescono a mettere insieme questo, perché c'è il problema generazionale, c'è il problema delle modifiche tecniche e tecnologiche, penso allo sport, no? È vero, noi guardiamo con affetto a quello che è successo anche solo 40 anni fa, però i tempi sono cambiati. Invece se parliamo di teatro, di musica, di tutto quel mondo lì, noi riusciamo a essere attuali pur attingendo un passato. Questa è una cosa che sento molto forte, che mi entusiasma, si percepisce probabilmente, anche mentre ne sto parlando, mi emoziona anche un po'. Mi piace citare, non so chi, ma qualcuno, parlando del festival, dice che è il festival più antico con il pubblico più giovane, quindi un sguardo al passato, ma proiettato assolutamente al futuro, perché poi vedere il teatro pieno, pieno di giovani così appassionati, coinvolti, coinvolti anche in attività del festival, anche su questo avremo modo poi di dire qualche cosa, è una grande gioia, è una grande gioia. E quindi è un momento di grande intensità, anche emotiva il festival, e veramente mi auguro che sempre più persone si stringano attorno a questa perla preziosa che nasce nella nostra città e che con grande affetto dobbiamo continuare a coltivare. Ed è un'iniziativa che si attua col sostegno del Comune di Pesaro, della Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Università dell'Eta Libera e con Rossinti, un media partner, così abbiamo fatto anche la parte istituzionale. Ti ringrazio, hai fatto benissimo, perché nulla è fattibile se poi non c'è anche un sostegno di istituzioni che credono nel nostro lavoro e che poi ci danno la sostanza per continuare a farlo, quindi hai fatto benissimo a citarle e mi unisco al tuo ringraziamento. Tutte le informazioni, i biglietti e gli abbonamenti, è importante abbonarsi, i prezzi sono veramente simbolici per venire al GAD, si può venire con le varie formule di sconto a un prezzo veramente simbolico, anche quest'anno ripeteremo l'iniziativa per cui gli abbonati AMAT possono venire gratuitamente, abbonarsi gratuitamente al Festival GAD, solo associandosi a un prezzo di 30 euro alla nostra associazione, quindi veramente abbattute tutte le barriere economiche, ma tutte le informazioni, i biglietti e gli abbonamenti si possono fare al Teatro Rossini, dal 28 settembre fino al 6 ottobre per gli abbonamenti, dal 7 ottobre anche la vendita dei singoli biglietti. Bene Cristian, con questo possiamo anche concludere e dare appuntamento a venerdì prossimo. Ciao a tutti! Grazie a tutti!